Migrante, immagino che per lei abbiano una risonanza forte, no questa parola? Secondo lei è cambiato qualcosa nella gestione di draghi rispetto all'accoglienza ai migranti? Io spero che a parte questo sia cambiata un po' la mentalità del paese perché per molti anni all'inizio si è pensato che gli sbarchi fossero un'emergenza che durava un'estate e poi sarebbe finita in realtà si sapeva benissimo che non è così ma non è così dall'inizio dell'umanità le persone non sono alberi con le radici eccetera sono pesci che si muovono normalmente come i nostri nonni i nostri zii tra la prima e la seconda guerra mondiale si sono mostri a milioni, dico bene, milioni per cercare una prospettiva di vita migliore Mi fate vedere le immagini che arrivano al confine tra Polonia e Bielorussia e so che c'è una terribile notizia che è arrivata pochi minuti fa Sì perché sale a 12 il numero dei morti delle ultime ore e l'ultima persona trovata è un bambino di un anno la famiglia era di origine siriana, i genitori erano feriti è stato trovato al gelo in un bosco al confine tra Bielorussia e Polonia tra l'altro le persone che al momento circa 7.000 si trovano in questa condizione sono accampate in rifugi di fortuna vediamo anche le immagini in questo momento senza servizi e strutture senza riscaldamento temperature gelide Su questo voglio chiudere Emma Bonino, prego A volte mi viene da pensare che anche la pietà è morta è morta parlavamo prima del dramma di queste signore senza lavoro che passano la notte pensate a cosa deve essere il confine polacco-Bielorussia peraltro con la polizia che usa gli idranti e di qua, di là ci sono 6.000, 7.000 poveracci veramente disgraziati di qua c'è il continente di 500 milioni di abitanti che piaccia o non piaccia è il continente per il momento più ricco al mondo e noi ci facciamo violare qualunque diritto umano lo calpestiamo, non ci ricordiamo più ci comportiamo a volte veramente in modo bestiale Sì, sì, è uno, diciamo, secondo me è il fallimento più grande dell'Europa intergovernativa in cui ogni paese vuole fare da sé e non ha ceduto nessuna competenza alla Commissione Europea per cui chi li caccia, chi gli mette il filo spinato chi li lascia annegare nel Mediterraneo chi li riporta in Libia nei lager insomma, è spaventoso, secondo me quello che stiamo facendo a degli esseri umani che se fossero i nostri fratelli o i nostri figli credo penseremmo diversamente Forse ritroveremo la pietà Grazie Emma Bonino, è sempre un piacere grazie davvero ho la pubblicità, ci ritroviamo tra pochissime andiamo a fare il punto sugli ospedali italiani tra poco Grazie a tutti